da firmare il pietro il pietro Vieni, vieni, vieni Prendete il rapporto... ... non vale l'escrivere... ... non vale... ... non vale l'escrivete, capito? ... ... ... ... ... ... ti benedico 1,2,3,vai lo prendetelo voi vai 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 ma te la vado lì che da fastidio stai mi voglio di spizzare lì vi ok Sì, 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 sì.